Dunque, adesso le farò delle domande riguardo questo pomeriggio e lei dovrà cercare di rispondermi nella maniera più precisa possibile Nei limiti che stabilisco io, ovviamente Tutto chiaro? Dove si trovava alle ore 16? Era in cella con Innocenze Ponzio Dove vuoi che ero? E la macchia è in cella Ero seduto nella mia cella Dormivo In cella A quell'ora nessuno può uscire dalle celle Ero con Bianca e la poca pazza nella nostra residenza In che rapporti era con la dottoressa Vanvera? Non conoscevo la dottoressa Non era una brava persona Ma c'erano delle voci su di lei Faceva cose orribili Che? Ma in realtà so che stamattina avete avuto un colloquio Ah ah, questa domanda è antipattica Sì sì, è vero Ma non ci siamo detti nulla di importante Anche lei ha avuto incontri con la psichiatra? No, proprio no La psichiatra Non ci ho mai parlato in vita mia Psichiatri? Pronta ragazza Beh Perché? Le sembra un pazzo? Lo sa lei che è il mio psichiatra Ma non è questo il provino del grande fratello? Io non volevo fare del male ai miei bambini Ah Maria, sono un tronista fatto e finito Scegli me Fateci tornare in cella Siamo stanchi Sì 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 Grazie per la visione! Grazie per la visione!